Grazie a tutti. 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 proprio si presta a questo, tutto in sicurezza, tutto con una gestione pressoché impeccabile e speriamo che ci siano altri eventi perché proprio serve all'economia turistica della città riprendere e fare in modo che l'arena e non solo l'arena lavorino a pieno per tutti. Ed ora il consueto appuntamento con i dati e gli aggiornamenti per quanto riguarda il coronavirus che ci arrivano direttamente dal Servizio Sanità della Regione Marche che ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5.958 tamponi, 3.848 nel percorso Nuove Diagnosi, 2.110 nel percorso Guariti. I positivi nel percorso Nuove Diagnosi sono 333, 49 in provincia di Pesarurbino, 23 in provincia di Fermo, 44 in quella di Ascoli Piceno e 45 fuori Regione, 8 purtroppo i decensi segnalati ieri sera dal Servizio Sanità della Regione. Il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha pubblicato questa mattina attraverso i suoi social un nuovo messaggio per invitare la cittadinanza alla prudenza. Il dato del primo giorno della settimana rispetto ai sette giorni passati ha segnato infatti un incremento di soggetti sintomatici con cinque casi in più rispetto alla settimana passata. Una situazione non allarmante, ha sottolineato il Presidente, ma che deve far tenere alta l'attenzione di tutti. Il tema centrale della seduta del Consiglio Comunale che si è tenuto come di consueto ieri a Pesaro è stato il progetto di riqualificazione di Piazzale Cinelli, passato con la maggioranza dei voti favorevoli ma che ha raccolto diverse critiche e osservazioni da parte dei consiglieri contrari. È stata approvata ieri in Consiglio Comunale la delibera riguardante la riqualificazione di Piazzale Cinelli, un progetto che però ha visto i voti contrari di otto consiglieri di centrodestra, tra cui quelli della Lega. A scaturire la richiesta di rinvio e valutazione in Commissione Urbanistica della delibera diversi aspetti dell'operazione, tra cui in primis l'iter previsto per l'immobile ex dazio. A nostro parere l'amministrazione non ci ha guadagnato da questa operazione, ha concesso al privato di cambiare il tipo di intervento rispetto al piano regolatore con una variante a questo fabbricato che ci troviamo qui dietro, che è il fabbricato ex dazio, permettendogli di demolirlo e fare anche un eventuale piano casa con un aumento del 25%. In cambio l'amministrazione cosa ha avuto? Ha avuto 60 mila euro per sistemare questo piccolo parcheggetto, ha perso 5 posti auto e ha avuto un fabbricato a Trebbiantico da ultimare. È una piccola somma di denaro a nostro avviso. Se il Comune di Pesaro avesse venduto a 500-600 mila euro questo fabbricato e avesse monetizzato per fare opere pubbliche, sicuramente i cittadini ci avrebbero guadagnato. Nel 2017, quando per la prima volta fu messo in vendita con un'asta pubblica, il bene che abbiamo alle mie spalle è un'asta andò deserta. Nel 2018 venne ripropose a un prezzo ribassato e l'asta andò nuovamente deserta. Successivamente ci fu la possibilità da parte del Comune di avere in permuta, rispetto al bene che vediamo oggi nelle condizioni in cui è, un edificio nuovo, un immobile nuovo locato a Trebbiantico, quindi un immobile che diventerà poi centrale all'interno della programmazione di rigenerazione urbana. L'ultimo intervento riguarda appunto questa sdemanializzazione di una parte di questo piazzale che definirlo piazzale oggi, insomma, è un po' ambizioso. Ecco, sono cinque posti auto che verranno ceduti, alienati al proprietario dell'immobile in cambio di 130 mila euro e questi 130 mila euro verranno utilizzati per riqualificare tutta la zona che ha le mie spalle. Riqualificarla significa creare una vera e propria piazzetta, una piazzetta di fronte a una zona centrale perché siamo tra l'ospedale San Salvatore e il centro storico di Pesaro, una piazzetta con un potenziamento dell'illuminazione, una piazzetta più sicura perché meglio adatta a frequentazioni che più si adattano in modo consono al luogo, inoltre una messa anche in sicurezza della pista ciclabile. Temi centrali nella discussione del nuovo progetto per piazzare Cinelli anche la collocazione della nuova piazzetta e l'eliminazione di alcuni posti auto per la sua realizzazione. Proprio sul taglio di alcuni parcheggi anche il quartiere centro ha mosso delle osservazioni critiche. Il quartiere si era espresso denotando chiaramente quello che sarà il lavoro definitivo che andrà fatto e che riqualificherà sicuramente un'area importante della città esprimendo una valutazione e alcune osservazioni rispetto a quelle che sono esigenze che verranno a mancare per i cittadini rispetto a quella che è la situazione esistente, ovvero un abbattimento importante dei parcheggi. Detto questo, chiaramente speriamo che questa sia stata un'occasione nella quale evidenziare anche attraverso il percorso che si è fatto l'importanza del lavoro dei quartieri. Noi non riteniamo che questa si possa considerare piazza, sarà uno spartitraffico nella sostanza. I personaggi loschi che spesso bivaccano qui all'ingresso dell'ospedale si sposteranno in questa nuova area che sarà più confortevole, quindi a nostro parere non è una grande operazione. Andava studiata meglio, rivista meglio e soprattutto nell'interesse dei cittadini fatta. Qualche parcheggio sicuramente verrà a mancare, verrà a mancare perché nel momento in cui si fanno delle scelte sulla pista ciclabile, su quella mobilità, si fa una scelta che prediligia un altro tipo di mobilità anche se complessivamente questa operazione ha un saldo positivo perché in questi anni sono stati ricavati nuovi parcheggi in prossimità di Via della Liberazione. Inoltre insieme al progetto Sprint e il Bando delle Periferie sono previsti ulteriori nuovi parcheggi, quindi è un intervento che complessivamente vede un saldo positivo sul numero di parcheggi. Il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Biancani ha presentato una nuova mozione in regione per intensificare l'attività di screening periodico destinata a studenti e docenti delle Marche. Necessaria, secondo il consigliere, l'organizzazione di un sistema di monitoraggio periodico in ambiente scolastico come accade già in altre regioni. Un contributo a fondo perduto per i comuni sede di turismo religioso fortemente colpiti dalla mancanza dei pellegrinaggi a causa del Covid-19 e quanto richiede il consigliere regionale Giacomo Rossi in un'apposita mozione che si discuterà nell'assise regionale. Sostenibilità, servizi e investimenti, tre parole che descrivono il bilancio di previsione 2021 del Comune di Terre Roveresche, approvato nell'ultima seduta del Consiglio Comunale. Un bilancio che prevede di mantenere inalterate le aliquote di tributi, imposte, tutte le agevolazioni sulla Tari e le tariffe dei servizi erogati dal Comune e che quindi permette di lavorare ad una concreta programmazione del futuro, come ha sottolineato il Sindaco Antonio Sebastianelli. Dal 3 al 24 febbraio, tutti i mercoledì alle ore 18, Labile Teatro presenta sul proprio sito www.labileteatro.it Who is the Stranger? Nuovo spettacolo di circo contemporaneo proposto nell'ambito di Marche Palcoscenico Aperto, festival del teatro senza teatri, promosso dall'assessorato alla cultura della Regione Marche con Amat. Si è svolto ieri presso l'impresa Loccioni di Angeli di Rosora in provincia di Ancona l'osservatorio regionale sulla specializzazione intelligente. La Regione Marche ha riunito il mondo produttivo, accademico, delle forze sociali e delle professioni per progettare insieme le strategie future in ricerca e innovazione della prossima programmazione 2021-2027. Sentiamo quindi un estratto nelle interviste al Governatore Francesco Acquaroli e all'assessore all'attività produttive Mirco Carloni. In questo momento particolare credo che parlare di intelligenza significa guardare al futuro, guardare una possibilità di ripresa e significa intercettare le energie migliori per recuperare il tessuto che rischia di essere risucchiato da questa crisi pandemica ed economica. Sono tanti gli aspetti che ci possono coinvolgere su Recovery Fund, dipende come il Governo intende coinvolgere le Regioni. Noi abbiamo una visione, certamente in questa visione debbono essere protagonisti i territori e coloro che nei territori possono portare un valore aggiunto. La Regione deve riuscirci per forza perché in un momento come quello che stiamo vivendo non sono messi né campanilismi né egoismi. Abbiamo una grande responsabilità ma anche una grande opportunità. Con questa iniziativa di oggi si apre il lavoro di confronto con tutti gli stakeholder per individuare quelle che possono essere potenzialmente le aree migliori dove fare trasferimento tecnologico e ricerca. Senza la ricerca e il trasferimento tecnologico le nostre imprese non riuscirebbero a crescere e ad essere competitive. Abbiamo una grande opportunità di finanziamento che è quello che arriverà con il POR ma anche con il Recovery Fund per cui è obbligatorio prima fare un'analisi ma questa analisi condividela con tutti i soggetti di mercato e di territorio che possono darci la loro visione. Allora oggi noi andiamo ad individuare quali sono le cinque aree tematiche sulle quali poi calare le misure economiche che saranno importanti e quindi non possiamo permetterci di sbagliare. La velocità con cui usciremo dal Covid dipende dal vaccino ma le modalità con cui dopo il Covid ci sarà la ripresa economica dipendono da noi e quindi dobbiamo essere capaci di individuare quelli che sono i temi veri su cui puntare senza disperdere energie sviluppando le filiere e trasformando la nostra microimpresa in un'impresa altamente innovativa e competitiva. E vi ricordiamo che il racconto di questo evento nella versione integrale lo potrete vedere su Rossini TV venerdì alle ore 21.15. Intanto vi raccontiamo anche che è stata presentata la nona edizione di Sinfonica 3.0 per il Teatro Rossini di Pesaro, la stagione concertistica organizzata dall'Orchestra Sinfonica Rossini in collaborazione con il Comune di Pesaro e con il contributo di Xanitalia. Gli eventi di un'edizione completamente digitale prenderanno il via questo sabato come ci racconta nella prossima intervista il Presidente dell'Orchestra, Saul Salucci. Quest'anno abbiamo suddiviso la stagione in come se fosse una grande opera che avrà nel corso dell'anno, quindi avremo un atto primo, che è quello che presentiamo oggi, un atto secondo che sarà il periodo estivo e l'atto terzo il periodo autunnale. In questo primo atto raccontiamo di quattro concerti. La cosa a cui tengo particolarmente è la presenza di due solisti strepitosi. Il primo è Francesco Dorazio, violino solista, che nel 2010 ha vinto il premio Abbiati come miglior solista dell'anno. Con lui eseguiremo un concerto interamente dedicato a Mozart, un concerto per violino e orchestra, il numero 3, e la sinfonia numero 14, anche per sottolineare il 250esimo anniversario del primo viaggio di Mozart in Italia, un primo viaggio che toccò anche la Regione Marche. Il secondo appuntamento, quello del 26 febbraio, inserito nelle celebrazioni per il compleanno non-compleanno Rossini, vedrà invece l'altro grande solista, Giovanni Gnocchi. Giovanni Gnocchi insegna violoncello al Mozarteum di Salisburgo, quindi è uno dei posti più ambiti da tutti gli artisti. Dopo i concerti fatti al Teatro della Fortuna, quest'anno lo portiamo a Pesaro, sarà un concerto interamente dedicato a pagine per violoncello, solista e orchestra, e tra queste sottolineo un larm, stupendo capolavoro di Rossini, proprio nella serata del 26 febbraio. Si passa poi al 10 marzo, concerto in cui faremo un omaggio al Giappone. Dieci anni fa, l'11 marzo, accadde una tragedia in Giappone, che era lo tsunami e terremoto. Da quella tragedia, qualche anno dopo, nacque una bella relazione tra noi, dell'orchestra Rossini, la città di Pesaro, città del Vaticano e appunto il Giappone. Tutto è confluito nel gemellaggio tra Pesaro e Kakegawa. Noi faremo un concerto il 10 e omaggeremo il Giappone. L'11 in Giappone ci sarà il nostro direttore artistico, Daniele Agiman, che dirigerà un'orchestra giapponese in un momento istituzionale molto importante. Questi quattro concerti si concludono con l'ultima collaborazione con Giovanni Gnocchi, e sarà interamente dedicata a Haydn, che è il padre della sinfonia, in qualche modo il padre anche della nostra orchestra sinfonica, con l'esecuzione del concerto in do maggiore per violoncello e orchestra e la sinfonia Tempesta di Mare. La location è quella del Teatro Rossini, per una manifestazione che però sarà digitale. Sì, il Teatro Rossini, con la stupenda sistemazione del praticabile, che peraltro ha dato una eccellente acustica, e sarà tutto in streaming, tutto gratuito, si potranno vedere i concerti nei social dell'orchestra, del comune. Un altro aspetto importante è che ogni concerto sarà anticipato da Tracce D, una rubrica di 15 minuti che anticiperà i contenuti, le curiosità, ed è realizzata dal nostro segretario artistico Paolo Rosetti e dalla nostra referente musicologica Maria Chiara Mazzi. E chiudiamo il nostro telegiornale parlando di sport, perché la Blue Volley squadra militante in Serie C ha presentato lo scorso fine settimana i due nuovi arrivi della società pronta all'inizio del campionato a partire dal prossimo 6 marzo. Sentiamo tutte le novità in queste prossime interviste. Finalmente abbiamo una data certa per partire, che è il 6 di marzo, e i campionati saranno stilati la prossima settimana. Il comitato regionale ha inviato l'indizione con tutte le nuove procedure che ci saranno e la prossima settimana saranno stilati i calendari. Quindi il vecchio calendario prevedeva la prima partita in casa, il nuovo purtroppo, lo sapremo, sarà una sorpresa a fine della settimana prossima. Siamo stati costretti purtroppo a dover sostituire delle ragazze perché sono rimasta incinta. Siamo contenti per loro, però siamo dovuti correre ai ripari e pensiamo che con i due inserimenti abbiamo mantenuto lo stesso livello di competitività che avevamo precedentemente. È un grande sacrificio, con grande spinta, con grande desiderio, perché così oggi celebriamo un po' l'inizio di un'attività, di una ripresa di un'attività fermo restando che già la settimana scorsa è partita a livello nazionale la serie B e le serie superiori, l'eccellenza, diciamo, la A, la 1 e la 2, sia di maschili e femminili, stanno andando avanti con grossi sacrifici e grandi difficoltà per via della pandemia. Speriamo che questo sia uno strumento per garantire, soprattutto con i protocolli fatti applicare con attenzione dalla federazione, garantire a queste ragazze una costante e continua attività sportiva. Sono tornata diciamo alle origini perché ho iniziato i miei 15 anni in questa società che è il Blue Volley e mi sono fermata due anni e mezzo fa, poi sono stata chiamata a fare, diciamo, come bastone della vecchiaia e sono venuta ben volentieri a dare una mano qui nella squadra di Musumeci. È un bellissimo gruppo, ora speriamo di partire finalmente e di iniziare a fare il nostro. Come ruolo faccio la banda e comunque con le compagne mi sono sempre trovata bene fin da subito e ho riniziato subito anche la routine. Con l'allenatore mi trovo molto bene anche con lui perché comunque è molto comprensivo e anche a livello tecnico mi sa dare consigli e riesce a seguirmi molto bene. E adesso invece andiamo a raccontarvi quella che sarà la programmazione di questa sera su Rossini TV. Infatti questa sera alle 21.15 non dovete assolutamente perdervi questo bel documentario che racconta delle storie vissute proprio all'interno di San Patrignano. Si chiama Vicini al limite, organizzato dai ragazzi giovanissimi che hanno tra i 14 e i 25 anni che si occupano in modo particolare della rivista Edera di Firenze. Questo team di ragazzi giovanissimi hanno passato tre giorni ad ottobre per intervistare e raccogliere storie di ragazzi e ragazze che lottano contro la tossicodipendenza. E noi questa sera in esclusiva vi facciamo vedere questo bel racconto all'interno di San Patrignano. E poi vi ricordiamo anche l'appuntamento con domani Casa Rossini. Domani avremo Maria Rosa Tomasello che è presidente dell'Unilit e poi Emanuele Petrucci che è il sindaco di Monbaroccio e anche Roberto Bartolini. Non perdetevi la nostra diretta alle 10 su Rossini TV e anche sulla nostra pagina Facebook. Ho detto veramente tutto. Noi ci ritroviamo domani alle 7.20 in diretta con la nostra rassegna stampa. Buona serata.